Ciao a tutte, bentornate in questo tutorial di oggi. Vi mostrerò come ho lavorato questo progetto, molto molto semplice ma allo stesso tempo molto elegante e molto femminile con un punto davvero molto raffinato. Una maglietta completamente estiva lavorata con un cotone 100% della linea Basic Cotton distribuito esclusivamente dalla merceria Un Filo di Passione. Questo filato ve l'ho proposto in altri video tutorial, è un filato che veramente io adoro, si lavora benissimo, ha un'ottima resa e si presenta in gomitolini da 50 grammi. Quindi per ogni taglia in più sarà sufficiente magari l'acquisto di un solo gomitolino anziché di 100 grammi. Per quanto riguarda la lavorazione, il punto che ho scelto è un schema preso online che ho cercato di riprodurlo con una lavorazione top down dove partiremo infatti dalla circonferenza del collo e lavoreremo il motivo verso il basso. Per rimanere sulla stessa lavorazione che ho fatto io, adesso vi consiglierò per le taglie più grandi, visto che ho lavorato una taglia 40, un numero di motivi. Io sono andata a sviluppare 10 motivi nella parte dello sprone, un numero di motivi pari, suddivisibili però per due, quindi la metà per la parte frontale e la metà per la parte posteriore, in modo da riuscire a mettere in sospeso la manica nello stesso modo in cui l'ho lavorata io che adesso vi mostrerò per non andare magari a crearvi dei problemi al momento in cui dovremo sospendere le maniche magari ritrovarvi con il motivo qua centrale dove dovete andare ad unire lo scalfo, io ho lavorato la manica al centro del motivo, ho lavorato 5 motivi nella parte frontale e 5 nella parte posteriore per aumentare le taglie sarà sufficiente o cambiare l'uncinetto quindi passare a un uncinetto più grande, adesso vi illustrerò tutto, oppure andare a realizzare un motivo in più nella parte frontale e uno nella parte posteriore oppure due e due in modo da avere un numero pari di motivi suddivisibili con mezzo motivo sopra la spalla e poi mezzo motivo dove andremo a ricavare lo scalfo manica che può trasformarsi in uno oppure due motivi a seconda anche dello spessore del filato che andate ad utilizzare io vi consiglio di lavorare con lo stesso filato che ho scelto in modo da rimanere sulla stessa tecnica di lavorazione che vi ho utilizzato in questa breve presentazione per mostrarvi la maglia così com'è indossata, lavoreremo questa manica con questa puntina qua sopra che la trovo davvero deliziosa la lavorazione identica sia nella parte posteriore che nella parte frontale è un motivo adatto come penso possiate vedere anche voi sia a un abbigliamento un pochino più casual magari su un jeans così come la sto portando io ma perché no anche sotto a una giacca e una gonna un pochino più elegante per un'estate davvero all'insegna del colore questa bellissima tonalità rosa perlata che trovate disponibile nelle info box di questo video della merceria un filo di passione io se questo progetto vi piace vi lascio la lavorazione passo passo vi mando un bacio grandissimo a tutte e ci vediamo al prossimo video tutorial ciao a presto il filato che vi propongo oggi per la lavorazione di questo progetto lo abbiamo già visto anche in altre mie video tutorial è un filato davvero ottimo, lo trovo un cotone davvero eccellente e ha davvero una bellissima luminosità il filato che vi propongo è il filato basic cotton distribuito esclusivamente dalla merceria un filo di passione la tonalità che ho scelto per questo progetto è il numero di riferimento 513 tutti i link del filato per come acquistarlo e il link alla merceria li trovate nelle info box di questo tutorial è un 100% cotone come vi ho detto si presenta in gomitolini da 50 grammi con una resa di circa 125 metri un cotone molto perlato, uno spessore abbastanza ritorto che si lavora perfettamente con gli uncinetti si dà come riportato anche qua sull'etichetta 2,5 3,5 mm ma anche 4 mm nel progetto che lavoreremo insieme io ho scelto di utilizzare il 3 mm non in argento ma il 3 mm per la lana quello con la puntina un pochino più grande ma volendo vi mostrerò come andare ad aumentare la misura rimanendo sul mio stesso numero di maglie di avvio avremo bisogno di due marca punto per andare a delimitare gli scalfi un metro per misurare l'inizio del lavoro e le forbici per tagliare il filo vediamo velocemente come si struttura questa maglia e poi mettiamoci al lavoro il progetto di oggi si lavora in top down quindi partiremo da una circonferenza che sarà quella che andrà a delimitare la nostra circonferenza nella parte del collo quindi andremo a realizzare una serie di catenelle multiple di 12 per andare a raggiungere un diametro corretto per la nostra circonferenza nella parte della spalla io non volevo una maglia molto scollata quindi ho realizzato 120 catenelle quindi esattamente lo sviluppo di 10 motivi di cui 5 sulla parte frontale e 5 sulla parte posteriore qua ne vedete 1, 2, 3 e 4 perché il quinto motivo l'ho suddiviso metà su una spalla e metà sull'altra spalla quindi per lavorare questo progetto io con il 3 mm ho ottenuto uno sprone quindi una misura nella parte dello scollo di circa 38 cm però vi do nuovamente la misura allora ok in totale come circonferenza io raggiungo 56 cm non 38 scusatemi 56 cm, 28 frontali e 28 nella parte posteriore quindi una scollatura non troppo ampia se volete modificare la misura di avvio è possibile lavorare le mie stesse maglie per realizzare una taglia small e lavorarle tutte con l'uncinetto da 4 mm così come il resto del progetto che adesso vi illustrerò se invece volete lavorare la mia taglia uncinetto da 3 mm per tutto il lavoro andremo a lavorare una serie di motivi nel mio caso sono stati sufficienti 1, 2 e 3 motivi completi dove poi sono andata a mettere in sospeso la manica quindi a ricavare lo scalfo della manica nella lavorazione dello scalfo sono andata ad unire due motivi creandone uno nella parte laterale del mio lavoro quindi questo qua che sarà sulla parte laterale del mio lavoro vi mostrerò tutto passo passo ma per mostrarvi qual è il metodo che io ho utilizzato per questa lavorazione lo schema è stato preso online dove venivano riportati il primo e il secondo giro del motivo con degli aumenti per chiaramente andare a realizzare lo sprone da questo motivo in poi io ho lavorato sulla mia misura andando ad adeguare un numero di catenelle di separazione giuste per la mia circonferenza quindi nel mio caso il progetto che adesso vedremo insieme sarà lavorato per una misura di 30 cm sulla parte frontale e 30 cm nella parte posteriore quindi una circonferenza da sotto al braccio fino alla fine del progetto di 60 cm quanto riguarda invece la lunghezza posso dirvi sia il numero dei motivi che sono andata a lavorare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 motivi totali che corrispondono in centimetri dalla spalla 63 cm di lunghezza totale dalla spalla fino all'ultima punta del motivo adesso lavoreremo insieme un campione per il primo giro del motivo perché volevo valutare un attimo la misura per lo scollo quindi ho già avviato il mio progetto ma riprenderò con voi subito dal secondo giro e poi lavoreremo tutto passo passo per quanto riguarda lo scalfo manica questo ci tengo a dirlo io il progetto l'ho lavorato andando a lasciare liberi per il braccio un mezzo motivo sulla spalla e mezzo motivo che è questo qua dove poi ho diviso il lavoro e mezzo motivo per la parte poi del corpo della maglia quindi per lavorare come me e andare ad ottenere la stessa suddivisione dei motivi avrete bisogno di un numero pari di motivi nella parte frontale e posteriore più mezzo motivo su una spalla e su un'altra spalla quindi io ho lavorato 10 motivi totali se volete lavorare motivi in più per aumentare la misura anziché cambiare l'uncinetto dovrete lavorare per suddividere lo scalfo nello stesso modo in cui ho lavorato io almeno due motivi in più perché mezzo motivo resterà sulla spalla e mezzo motivo andremo a ricavarlo per lo scalfo quindi due motivi, scusatemi, due motivi totali uno nella parte frontale e uno nella parte posteriore da 10 a 12, da 12 a 14 e così via vediamo come si comincia questo lavoro cominciamo il nostro lavoro avviando una catena multipla di 12 vi ripeto io ho lavorato 120 catenelle con l'uncinetto da 3 mm che corrispondono a uno sviluppo totale di 10 motivi cambiando uncinetto e passando a un 3,5 o un 4 mm è possibile aumentare la misura della maglia senza modificare le maglie di avvio una volta montate le nostre catenelle prendiamo la prima catenella iniziale e andiamo a chiudere a cerchio il nostro lavoro con una maglia bassissima una volta chiuso il nostro cerchio ci alziamo di 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta iniziale una catenella di separazione prendiamo il filo nella stessa maglia di chiusura del giro entriamo e lavoriamo una maglia alta una due tre catenelle adesso su base andiamo a contare una due nella terza catenella entriamo e lavoriamo una maglia bassa 3 catenelle una due tre di nuovo contiamo su base una e due catenelle nella terza una maglia bassa una due tre catenelle una due nella terza entriamo e lavoriamo un altro punto basso quindi abbiamo realizzato due maglie alte nella prima maglia di unione del giro separate da una catenella 3 catenelle 2 maglie di base nella terza un punto basso 3 catenelle 2 maglie di base un punto basso 3 catenelle saltiamo 2 maglie di base nella terza un punto basso adesso ripetiamo una 2 3 catenelle prendiamo il filo sull'uncinetto saltiamo 1 2 maglie di base nella terza una maglia alta una catenelle una catenella e nello stesso punto rientriamo ripetiamo una maglia alta una 2 3 catenelle una 2 3 catenelle saltiamo una e due maglie di base nella terza un punto basso 3 catenelle saltiamo una e due maglie di base nella terza un punto basso 3 catenelle di nuovo una due maglie di base nella terza un punto basso e adesso una due tre catenelle prendiamo il filo e ripetiamo le maglie alte saltiamo una e due maglie di base nella terza una maglia alta una catenella e nello stesso punto una maglia alta una due tre catenelle una due maglie di base nella terza un punto basso questo è lo sviluppo del primo giro dobbiamo realizzare queste maglie alte separate da due archetti di 3 catenelle chiusi con un punto basso ogni due maglie di base arriviamo alla fine del giro e lavoriamo il giro successivo quando raggiungiamo la fine del cerchio lavoriamo le nostre maglie alte le tre catenelle il punto basso 3 catenelle punto basso 3 catenelle punto basso 3 catenelle e andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia alta iniziale quindi andiamo a contare una due nella terza catenella una maglia bassissima questo è lo sviluppo del primo giro secondo giro inizia da qua 3 catenelle prendiamo il filo nella maglia di separazione entriamo e lavoriamo una maglia alta prendiamo il filo rientriamo nello stesso foro un'altra maglia alta per un totale di 3 maglie alte 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nello stesso punto e realizziamo una maglia alta di nuovo nello stesso punto 2 prendiamo il filo sulla maglia alta la seconda maglia alta del giro sottostante entriamo e lavoriamo una maglia alta una due tre catenelle queste catenelle quale saltiamo nel secondo archetto di catenelle quindi queste noi lavoriamo nel secondo entriamo e lavoriamo in punto basso 3 catenelle 1 2 3 nell'archetto successivo un punto basso 1 2 3 catenelle prendiamo il filo sull'uncinetto queste maglie saltiamo nella prima maglia alta lavoriamo una maglia alta nello spazio di una catenella 2 maglie alte e nello stesso punto la seconda maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nello stesso punto e lavoriamo nuovamente 2 maglie alte 1 nello stesso punto 2 prendiamo il filo sulla maglia alta successiva entriamo e lavoriamo la terza maglia alta abbiamo appena ripetendo quello che abbiamo lavorato su questo punto qua 3 catenelle 1 2 3 queste catenelle le saltiamo nel primo archetto entriamo un punto basso 3 catenelle qua abbiamo abbiamo il secondo archetto di 3 catenelle entriamo un punto basso 3 catenelle di nuovo abbiamo la b nella prima maglia alta una maglia alta nella catenella 2 maglie alte 3 catenelle 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo sull'uncinetto rientriamo nella catenella di separazione 2 maglie alte sull'ultima maglia alta una maglia alta lavoriamo tutto il giro in questo modo sono alla fine del giro ho lavorato le mie maglie alte il punto basso nel primo archetto sottostante di 3 catenelle 3 catenelle un punto basso nell'archetto successivo e adesso chiudo il giro con 3 catenelle una maglia bassissima nella terza catenella iniziale 1 2 3 nella terza un punto bassissimo lavoriamo il terzo giro 1 2 3 catenelle sopra alle successive 2 magliette una maglia alta 1 2 prendiamo il filo entriamo nelle 3 catenelle catenelle di separazioni lavoriamo 2 magliette 1 2 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nello stesso punto 2 magliette sulle 3 maglie alte finali una maglia alta sopra ogni maglia alta 1 2 3 abbiamo nuovamente fatto un aumento da 3 maglie alte a 5 magliette 1 2 3 4 e 5 3 catenelle di separazione saltiamo questo spazio di prime catenelle nel successivo un punto basso che è praticamente un arco centrale che abbiamo lavorato nel giro precedente 3 catenelle prendiamo il filo direttamente nella prima maglietta successiva una maglia alta nella seconda maglia alta una maglia alta nella terza maglia alta una maglia alta prendiamo il filo nelle 3 catenelle di separazione 2 maglie alte 1 2 per un totale di 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nelle 2 catenelle sottostanti 2 maglie alte e una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante quindi 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 e 3 saltiamo le prime catenelle nell'archetto centrale dei motivi un punto basso 3 catenelle filo sull'uncinetto una maglia alta sopra le prime maglie alte per un totale di 3 maglie alte 2 maglie alte nelle 3 catenelle 1 2 andiamo a ripetere quello che abbiamo lavorato qua 3 catenelle 5 maglie alte ci vediamo alla fine del giro lavorato tutto il giro il punto basso nell'archetto centrale 3 catenelle una maglia bassissima nella prima maglia alta 1 2 3 una maglia bassissima lavoriamo adesso il quarto giro ci alziamo di 3 catenelle e andiamo nuovamente a fare un aumento 5 maglie alte una sopra ogni maglia alta sottostante 2 3 4 5 nell'archetto di 3 catenelle nello spazio quantiamo e lavoriamo due maglie alte 1 2 quindi da 5 a 6 7 1 2 3 4 5 6 e 7 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nello stesso punto una due più una maglia alta sopra le cinque maglie alte per un totale di sette maglie alte 3 4 5 6 7 questo è l'ultimo giro del primo motivo abbiamo la maglia passa centrale facciamo una catenella saltiamo questo punto direttamente nell'altro gruppo di maglie alte entriamo e ripetiamo 7 maglie alte 1 2 3 4 5 prendiamo il filo entriamo nelle catenelle di separazione altre 2 maglie alte 6 e 7 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nello stesso spazio 2 maglie alte una maglia alta sopra ad ogni maglia alta sottostante quindi sopra alle 5 maglie alte una catenelle 1 2 3 4 5 una catenella di separazione prendiamo il filo saltiamo la maglia bassa centrale la saltiamo direttamente nella maglia alta seguente ricominciamo con la lavorazione delle maglie alte 1 2 3 4 5 nelle 3 catenelle di separazione 2 maglie alte 3 catenelle 1 2 3 rientriamo nello stesso punto e ripetiamo 2 maglie alte una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante 1 2 3 4 e 5 più le due magliette dell'archetto realizzate nello spazio di 3 catenelle 7 magliette alla fine del giro una catenella e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale 1 2 3 una maglia bassissima abbiamo terminato il primo sviluppo del primo motivo sul motivo successivo adesso lavorerò di nuovo con voi sul mio progetto andremo a fare un aumento e lavoreremo fino a 9 maglie alte ogni giro quando terminiamo il motivo inizierà al centro del motivo sottostante quindi adesso a maglie bassissime dobbiamo raggiungere le 3 catenelle centrali del motivo adesso ricomincerò con voi la lavorazione sul mio progetto quindi io sono nello stesso punto in cui vi ho lasciato con una maglia bassissima sulla prima maglia alta il secondo motivo comincia al centro delle 3 catenelle quindi a maglie bassissime dobbiamo camminare fino al centro delle 3 catenelle del motivo e ricomincieremo con la lavorazione del punto quindi nella seconda maglia alta un punto bassissimo nella terza un punto bassissimo nella quarta un punto bassissimo nella quinta un punto bassissimo nella sesta un punto bassissimo nella settima un punto bassissimo adesso entriamo nelle 3 catenelle e lavoriamo un punto bassissimo quindi il secondo motivo il primo giro inizia da qua al centro del nostro archetto 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta prendiamo il filo nello stesso foro lavoriamo a 32 maglie alte una e due per un totale di 3 maglie alte 1 2 e 3 adesso ripetiamo 3 catenelle 1 2 e 3 prendiamo il filo rientriamo nello stesso punto e lavoriamo altre 3 maglie alte 1 2 e 3 siamo praticamente ricominciando il nostro motivo al centro del motivo sottostante quindi abbiamo ripetuto il il secondo giro che questo qua con le 3 maglie alte le 3 catenelle le 3 maglie alte adesso procediamo e lavoriamo 4 catenelle 1 2 3 e 4 abbiamo adesso sette maglie alte qua sottostanti che sono del motivo sottostante nella quarta maglia alta una 2 3 nella quarta un punto basso 4 catenelle 1 2 3 e 4 qua abbiamo la catenella di separazione del motivo sottostante nella catenella entriamo e lavoriamo un punto basso 4 catenelle 1 2 3 e 4 contiamo 1 2 3 nella quarta maglia alta del gruppo di 7 maglie alte quindi 1 2 3 nella quarta un punto basso 4 catenelle 1 2 3 e 4 prendiamo il filo nello spazio di 3 catenelle che divide le 7 maglie alte dalle altre 7 maglie alte entriamo e ripetiamo 3 magliette 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 filo sull'uncinetto nello stesso punto 3 maglie alte 1 2 e 3 ok questo è lo sviluppo del primo giro del secondo motivo procediamo con 4 catenelle una maglia bassa sulla quarta maglia alta 4 catenelle un punto basso al centro di divisione 4 catenelle un punto basso sulla quarta maglia alta del gruppo successivo e poi 4 catenelle le 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte continuiamo in questo modo fino alla fine del giro ho lavorato tutto il giro mi trovo esattamente nel punto in cui ho iniziato le maglie bassissime quindi lavoro la maglia bassa sulla catenella di separazione dei due gruppi 4 catenelle adesso conto una due tre nella quarta maglia alta entro un punto basso 4 catenelle 1 2 3 e 4 qua la prima maglia alta iniziale quindi la terza catenella iniziale chiudo con un punto bassissimo quindi il giro inizia e finisce su questa maglia alta qua al centro del motivo sottostante adesso iniziamo il giro successivo chiaramente da questo punto ci alziamo con 3 catenelle una due e tre e andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto nel giro del motivo dove abbiamo lavorato le cinque maglie alte lo ripetiamo anche in questo giro qua quindi una maglia alta sopra alle due successive magliette 1 2 nello spazio di 3 catenelle 2 maglie alte per un totale di 5 maglie alte 1 e 2 1 2 3 4 e 5 maglie alte adesso facciamo 3 catenelle di separazione 1 2 3 entriamo sempre nello stesso punto quindi nello spazio delle delle due catenelle prendiamo il filo rientriamo di nuovo 2 maglie alte 1 2 e adesso una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi 5 maglie alte 1 2 e 3 1 2 3 4 e 5 magliate sul lato e 5 sull'altro lato adesso lavoriamo 4 catenelle 1 2 3 e 4 qua abbiamo le prime 4 catenelle del giro sottostante e le saltiamo nel secondo spazio di 4 catenelle lavoriamo un punto basso quindi andiamo ad escludere dal lavoro questo archetto di 4 maglie qua 1 2 3 4 catenelle nell'archetto successivo quindi il punto basso abbiamo altre 4 catenelle entriamo un punto basso 1 2 3 4 catenelle prendiamo il filo saltiamo queste 4 catenelle nella prima maglia alta una maglia alta una maglia alta sopra le successive magliette e due maglie alte nell'archetto di 3 catenelle una e due andiamo a ripetere quello che abbiamo appena lavorato qua 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nell'archetto di 2 catenelle di 3 catenelle lavoriamo 2 maglie alte 1 2 e una maglia alta sopra ad ogni maglia alta sottostante per un totale di nuovo di 5 maglie alte nella prima maglia alta una maglia alta nella seconda maglia alta una maglia alta nella terza maglia alta una 2 3 4 5 3 catenelle 1 2 3 4 e 5 di nuovo 4 catenelle 1 2 3 e 4 il primo archetto lo saltiamo nel successivo entriamo un punto basso 1 2 3 4 catenelle nello spazio successivo un punto basso 1 2 3 4 catenelle e ricominciamo con le maglie alte quindi lavoriamo tutto il nostro motivo fino alla fine del giro in questo modo ci rivediamo alla fine del giro per chiudere iniziare il giro successivo ho raggiunto la fine del giro 4 catenelle nella terza catenella iniziale che è la prima maglia alta una maglia bassissima ok adesso semplicemente ripetiamo le sette maglie alte quindi una due tre catenelle sono la prima maglia alta una maglia alta sopra ad ogni maglietta sottostante 2 3 4 5 nelle 3 catenelle 2 maglie alte 1 2 per un totale di 7 maglie alte 1 2 3 4 e 5 più 27 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo rientriamo nelle 2 catenelle è successo rientriamo nelle 2 catenelle lavoriamo 2 maglie alte 1 nello stesso punto 2 una maglia alta sopra ad ogni maglia alta quindi 7 maglie alte anche su questo lato qua 2 3 4 e 5 abbiamo semplicemente ripetuto l'ultimo giro del primo motivo adesso 4 catenelle 1 2 3 4 saltiamo il primo archetto di 4 catenelle nel successivo un punto basso 1 2 3 4 catenelle sulla prima maglia alta ricominciamo con le maglia alta quindi 7 maglie alte 2 3 4 5 nelle 3 catenelle 2 maglie alte 6 7 1 2 3 catenelle rientriamo nelle catenelle sottostanti 2 maglie alte e una maglia alta sopra ad ogni maglia alta quindi di nuovo 7 maglie alte è molto semplice questo punto 4 5 4 catenelle 1 2 3 4 5 4 catenelle 1 2 3 4 saltiamo il primo archetto nell'archetto centrale di quattro catenelle un punto basso 4 catenelle 2 3 3 4 4 4 catenelle di 4 Linda e 4 prendiamo il filo e ricominciamo con la lavorazione delle maglie alte quindi procediamo in questo modo fino a raggiungere l'inizio del nostro del nostro giro ci vediamo per chiudere iniziare il giro successivo sono alla fine del giro lavorato le 4 catenelle il punto basso al centro 4 catenelle chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta del giro quindi nella terza catenella iniziale adesso iniziamo l'ultimo giro del secondo motivo perché dobbiamo andare come nel primo nel primo motivo ad unire i nostri ventaglietti quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta dentro ad ogni maglia alta una maglia alta quindi un totale di sette maglie alte 3 4 5 6 7 adesso abbiamo lo spazio di 3 catenelle entriamo e lavoriamo 2 maglie alte una e due quindi su questo giro del motivo che è l'ultimo del secondo motivo abbiamo 9 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 3 catenelle tutto si ripete poi allo stesso modo 2 maglie alte una e due nello stesso punto più 7 magliette quindi una sopra ad ogni maglia alta sottostante è tutta una ripetizione questo punto solo che cambiano le catenelle fra un gruppo e l'altro ad ogni giro 4 5 6 7 adesso andiamo ad unire tutti i nostri motivi quindi abbiamo lavorato 9 maglie alte doppie 3 catenelle 9 maglie alte 3 catenelle 9 maglie alte una catenella prendiamo il filo direttamente saltiamo il punto basso direttamente qua nella prima maglia alta ricominciamo con la lavorazione di 7 maglie alte quindi una maglia alta sopra ad ogni maglia alta 5 6 7 nello spazio di 3 catenelle 2 maglie alte 1 2 1 2 3 catenelle prendiamo il filo rientriamo nel foro 1 2 maglie alte e scendiamo su questo lato e terminiamo con una maglia alta sopra ad ogni maglia alta di questo è lo sviluppo del dell'ultimo giro del secondo motivo lavoriamo tutto il giro ci vediamo per chiudere il punto alla fine del giro vado a chiudere con una maglia bassissima chiaramente nella terza catenella iniziale allora io stavo misurando il mio lavoro e in altezza con lo sviluppo di due motivi raggiungo circa 11 cm io devo arrivare adesso andando a ripetere tutto questo secondo motivo così come vi ho appena mostrato un'altezza giusta per arrivare allo scalfo della manica quindi intorno ai 16 18 cm quindi io andrò a ripetere questo secondo motivo qua almeno per altre due volte o comunque una volta e andrò a misurare 6 cm sono giusti per raggiungere il mio sotto braccio voi dovete misurare i centimetri che vi occorrono per arrivare al sotto braccio quindi dove metteremo in sospeso la manica e dove riprenderemo nel corpo della maglia come si lavora da ora in poi allo stesso modo di come vi ho mostrato il lavoro del secondo motivo sempre con lo stesso numero di catenelle non faremo più nessun aumento fino a raggiungere il sotto braccio quindi la divisione cammineremo praticamente sopra la spalla adesso sempre nello stesso modo ho chiuso con una maglia bassissima io mostro l'inizio a maglie bassissime raggiungo il centro del nel mio motivo 2 3 4 5 6 7 8 con la prima maglia alta 9 nell'archetto un punto bassissimo il nostro motivo parte da qua 1 2 3 catenelle prendiamo il filo rientriamo nello stesso foro e lavoriamo altre due maglie alte quindi un totale di 3 maglie alte come abbiamo fatto per l'inizio di questo giro quindi noi adesso lavoreremo sempre questi quattro giri qua nel modo in cui vi andrò a mostrare vi mostro il primo giro 1 2 3 catenelle prendiamo il filo rientriamo nello stesso foro 3 maglie alte una due e tre adesso lavoriamo una due tre quattro catenelle contiamo una due tre quattro maglie alte nella quinta un punto basso una due tre quattro catenelle nella catenella di separazione dei due motivi dei gruppi sottostanti entriamo nella catenella un punto basso 1 2 3 4 catenelle contiamo una due tre quattro maglie alte nella quinta un punto basso stiamo esattamente ripetendo quello che abbiamo fatto qua solo che non andiamo a fare più nessun aumento quindi lavoriamo le mani per quante ne abbiamo una due tre quattro catenelle filo sull'uncinetto nel centro del motivo 3 maglie alte una due tre tre catenelle una due tre nello stesso punto di nuovo 3 maglie alte una due tre tre stiamo ricominciando il motivo però vedete che in questo modo riprendiamo il numero esatto di maglie non andiamo a tirare ma andiamo semplicemente a riprendere tutte le maglie che abbiamo sul nostro lavoro adesso lavoriamo 4 catenelle una due tre quattro contiamo una due tre quattro nella quinta maglia alta una maglia bassa una due tre quattro catenelle saltiamo una due tre quattro nella catenelle di separazione una maglia bassa una due tre quattro catenelle 1 2 3 4 nella quinta maglia alta una maglia alta una due tre quattro catenelle prendiamo il filo nel centro delle 3 catenelle ripetiamo 3 maglie alte una due tre tre catenelle rientriamo nello stesso punto e ripetiamo 3 maglie alte una due tre quattro catenelle e ricominciamo con la lavorazione del punto quindi saltiamo le quattro maglie alte nella quinta un punto basso e così via allora su questo giro qua io non andrò a fare nessun aumento ma se avete bisogno di aumentare per aumentare lo sprone lavorate anziché quattro catenelle lavorate nel cinque e ripetete tutto il motivo con cinque catenelle anziché quattro come abbiamo fatto qua quindi se volete aumentare di poco lavorate una catenella in più su ogni gruppo di catenelle di quattro catenelle ne lavorate cinque e ripetete tutto allo stesso modo arriviamo alla fine del giro vi mostro come iniziare il giro successivo e poi tutta una ripetizione fino a raggiungere lo scalfo della manica quindi ogni motivo comincia al centro del motivo sottostante camminando maglie bassissime e dobbiamo nuovamente ripetere uno due tre e quattro giri che vi ho appena mostrato in questa lavorazione qua se volete aumentare su questo giro aumentate con una catenella e anche il giro successivo lavoratene però sempre cinque io continuerò con le quattro catenelle sto realizzando una taglia 40 per me quindi valutate un attimo anche voi quanti motivi quante catenelle vi occorrono per la vostra misura della spalla ci vediamo alla fine del giro raggiunto alla fine del giro quindi ho lavorato le mie 4 catenelle punto basso nella quinta maglia alta quindi dove ho la maglia bassissima 4 catenelle e chiudo sulla terza catenella iniziale con una maglia bassissima adesso il giro si ripete quindi lavoriamo 3 catenelle 2 e 3 una maglia alta sopra ad ogni maglia alta per un totale di 3 maglie alte 2 maglie alte nelle 3 catenelle 1 e 2 1 2 3 catenelle 2 maglie alte al centro delle 3 catenelle 1 e 2 e una maglia alta sopra ad ogni maglia alta sottostante 5 maglie alte sul secondo giro del motivo si ripete tutto allo stesso modo in cui vi ho mostrato nella lavorazione del secondo motivo quindi con le stesse maglie di separazione io adesso procedo nel lavoro lavorerò un motivo in più e andrò a misurare con il metro quanti centimetri ho raggiunto se sarà necessario lavorerò un motivo ulteriore oppure mi fermerò e vi mostrerò come mettere in sospeso le maniche e riprendere la lavorazione del corpo della maglia per lavorare il corpo della maglia è tutta la ripetizione dello stesso punto fino alla lunghezza che desideriamo quindi possiamo fare una maxi maglia un mini abito un top qualsiasi cosa abbiamo in mente di lavorare per noi ho terminato di lavorare la parte dello sprone ho avuto bisogno di un solo motivo in più quindi questa è la mia taglia vi ripeto potete tranquillamente aumentare di un motivo io avrei avuto altrimenti in alternativa uno sbraccio troppo ampio quindi per me sono sufficienti questi centimetri vi dico quanti sono nel mio caso ok sono esattamente 17 centimetri quindi per me sono sufficienti io mi fermerò con la lavorazione di tre motivi e adesso vado a dividere la parte che lascerò sulla spalla e la parte che mi sarà nel corpo della maglia io ho piegato il mio lavoro in questo modo io avevo dieci motivi di cui uno due tre quattro mi resteranno nella parte frontale mezzo motivo mi rimarrà su ogni spalla quindi su un lato e sull'altro lato pieghiamo perfettamente il nostro lavoro in questo modo e adesso andiamo a scegliere il punto in cui riagganciarci con il lavoro per lavorare gli scappi io lascerò mezzo motivo sulla spalla e mezzo motivo perché mi aggancerò da qua sulla parte frontale del corpo del lavoro questo mezzo motivo lo andrò a lavorare congiunto al motivo della parte sottostante ora vi mostro in che modo mettiamo i nostri marca punto quindi io posiziono il marca punto in questo punto qua mezzo motivo al centro del secondo motivo poi lascio liberi uno e due motivi per il corpo della maglia e nell'altra parte lascio mezzo motivo sulla spalla e al centro del motivo sottostante un altro marca punto e questo è l'altro lato dove delimiterò lo scalfo manica adesso da dove sono a maglie bassissime raggiungo il centro di questo motivo qua sono al centro del motivo quindi a maglie bassissime ho raggiunto il centro del mio al primo motivo adesso da qua mi alzo di 3 catenelle che sono la prima maglia alta nello stesso foro entro e lavoro altre due maglie alte 1 e 2 adesso non termino con le 3 catenelle altre 3 maglie alte ma lavoro direttamente i miei archetti le altre maglie alte le lavorerò sull'altro lato quindi sulla parte posteriore una due tre quattro catenelle vado a contare una due tre quattro nella quinta io ho lavorato sempre quattro catenelle quindi continuo in questo modo se ne avete lavorate cinque continuate con cinque oppure se avete un seno abbondante lavoratene anche sei di catenelle per aumentare su questo punto qua poi nei giri successivi quelli sottostanti per andare a ridurre un po' nel punto vita potete diminuire queste catenelle qua da sei se ne avete sei da cinque se ne avete cinque a quattro quante ne volete lavorare voi una due tre quattro catenelle un punto basso al centro fra i motivi sottostanti adesso continuo con la lavorazione del punto al centro del punto 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte e procedo fino a raggiungere l'altro marca punto quindi ci vediamo sulla posizione dell'altro marca punto trovo sull'ultimo motivo da lavorare quindi lavoro una due tre quattro catenelle nel mio caso perché non sempre lavorate quattro entro nell'archetto di 3 catenelle dove ho il marca punto lavoro 3 maglie alte una due tre tre catenelle 1 2 e 3 adesso invece di terminare qua il motivo vado nell'archetto successivo quindi volto il mio lavoro in questo modo prendo il filo e lavoro le mie tre maglie alte nello spazio del motivo sull'altro lato quindi vado ad unire questi punti qua entro nell'archetto delle 3 catenelle lavoro una due e tre maglie alte quindi in questo modo sono andata a recuperare qualche centimetro per lo sbraccio questo lo posso togliere così vi mostro meglio il lavoro in questo modo vado ad aumentare un po la parte del sottobraccio con queste tre catenelle e vado ad unire il lavoro di questi due mezzi motivi sia nella parte frontale che nella parte posteriore adesso continuo con la lavorazione quindi una due tre quattro catenelle 1 2 3 nella quarta maglia al 1 2 3 4 nella quinta maglia alta scusatemi una maglia bassa 1 2 3 4 catenelle nel punto di unione del motivo un punto basso e procedo con la lavorazione del punto fino ad arrivare su quest'altro lato dove ho ancora il marca punto agganciato quindi continuiamo e ci vediamo per agganciare anche l'altra parte ho raggiunto la fine del giro quindi dove ho il marca punto ho fatto le mie quattro catenelle entro nel forellino dove ho il marca punto lavoro le 3 maglie alte una due tre e adesso prendo il filo sull'uncinetto questo lo posso togliere perché non mi occorre più in modo da lavorare anche meglio e vado a lavorare anziché lavoro una catenella filo sull'uncinetto e vado a lavorare una maglia alta nella terza catenella iniziale del giro in modo da trovarmi al centro dell'archetto di catenelle quindi entro nella terza catenella e lavoro una maglia alta e mi trovo esattamente a metà del mio del mio motivo adesso che cosa facciamo entriamo nell'archetto lavoriamo una maglia bassa più 2 catenelle prendiamo il filo rientriamo nel lavoro e lavoriamo un'altra maglia alta sono le due maglie alte in più che dobbiamo andare a realizzare all'interno delle 3 catenelle si lo sull'uncinetto entro nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta una maglia alta sopra la terza maglia alta quindi io adesso l'inizio la fine di questo motivo di questo primo motivo perché il successivo poi partirà al centro del foro quindi riprenderemo la lavorazione normale del punto ma su questo primo motivo io partirò con metà del motivo e terminerò lavorando la seconda metà del punto quindi adesso lavoriamo le nostre catenelle 1 2 3 e 4 saltiamo le prime catenelle nell'archetto successivo un punto basso 1 2 3 4 catenelle nell'archetto successivo un punto basso 1 2 3 4 catenelle perché io ho sempre lavorato 4 catenelle entro nella prima maglia alta e vado a realizzare le mie cinque maglie alte quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta lavoro normalmente il punto come l'ho sempre lavorato in questo modo sono andata ad unire la parte del sotto braccio e continuerò lavorando il mio motivo in questo modo sono sotto all'altra parte dell'altro sbraccio lavoro le mie quattro catenelle sulla prima maglia alta lavoro una maglia alta sulla seconda maglia alta la seconda maglia alta sulla terza la terza maglia alta adesso devo chiudere il giro e adesso finisco con la lavorazione delle due maglie alte al centro delle 3 catenelle 1 e 2 una catenella prendo il filo sulla prima maglia alta dell'altro gruppo di due maglie alte entro lavoro una maglia alta per chiudere anche questo giro qua trovarmi già al centro dell'archetto entro nel foro lavoro una maglia bassa 2 catenelle rientro nello stesso fuori lavoro un'altra maglia alta adesso procedo con la lavorazione delle maglie alte per un totale di 7 maglie alte una due tre lavoro proprio il punto normalmente 4 e 5 quindi di nuovo una due tre quattro cinque 6 e 7 maglie alte adesso continuo con la lavorazione del punto fino a chiudere il giro lavoriamo anche il giro successivo che è l'ultimo e poi inizieremo con la lavorazione normale del punto per la lunghezza che desideriamo ho terminato tutto il lato ho lavorato già le mie cinque maglie alte adesso devo lavorare nel fuori lino di delle catenelle 2 maglie alte per arrivare a 7 maglie alte anche su questo lato una catenella prendo il filo nella prima maglia alta che ho lavorato su all'inizio del giro lavoro una maglia alta e di nuovo mi trovo al centro del motivo entriamo nel fuori con una maglia bassa 2 catenelle prendiamo il filo rientriamo e lavoriamo una maglia alta e una maglia alta sopra da ogni maglia alta per un totale di 9 maglie alte una due tre quattro cinque più le due maglie alte iniziali 9 maglie alte una catenella e adesso andiamo ad unire il nostro i nostri motivi prendo il filo nella prima maglia alta del motivo successivo lavoro una maglia alta 2 3 4 5 6 7 entro nelle catenelle 8 e 9 3 catenelle 1 2 3 rientro nello stesso punto e lavoro le altre due maglie alte più una maglia alta sopra ad ogni maglia alta del motivo quando arrivo alla fine del motivo mi congiungo all'altro motivo con una catenella lavoriamo tutto il lato vediamo come chiudere questo giro dal giro successivo si lavora normalmente ho terminato di lavorare tutto il giro ho lavorato le mie sette maglie alte adesso nelle tre catenelle iniziali entro e lavoro una maglia alta e la seconda maglia alta prendo il filo filo sull'uncinetto nella prima maglia alta dell'altro lato una maglia alta ok abbiamo adesso terminato di lavorare il nostro motivo tranquillamente riprendere la lavorazione normale del punto entrando a lavorare le nostre maglie alte all'interno proprio del del nostro archetto volendo possiamo far così per spostarci un po con il punto voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassissima nella prima catenella di separazione che abbiamo lavorato ci voltiamo nuovamente e da qua cominciamo con una 2 3 catenelle prendiamo il filo rientriamo nelle due catenelle 3 catenelle sottostanti e lavoriamo la maglia alta e la seconda maglia alta una 2 3 catenelle prendiamo il filo e terminiamo il punto quindi una due e tre adesso iniziamo questo motivo come abbiamo sempre iniziato i motivi su tutto il corpo il resto della nostra maglia quindi siamo a lavorare il corpo del del nostro progetto continuiamo a lavorare giù a dritto per la lunghezza che desideriamo e ci rivediamo a lavoro terminato quindi al momento questo è il nostro il nostro progetto già sta prendendo forma continuiamo in lunghezza e mi ricollegherò con voi per il risultato finale